Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Sono iniziate le prime riunioni con il Totonomi per la nuova edizione e sorgono molti dubbi sul ruolo di Gemma. Secondo diverse indiscrezioni del web il suo volto non avrà poi ancora molto spazio nel programma e se non verrà messa alla porta. Comunque avrà ancora poco tempo in questo format. Ma cosa ne pensa la padrona di casa a riguardo? Al momento, per quanto riguarda la prossima stagione, Maria De Filippi non sia ancora espressa sul Totonomi. È parso evidente che anche la De Filippi non sia poi così tanto interessata al ruolo attuale di Gemma per il Tronover, ma ancora non è detta l'ultima parola. La padrona di casa dovrà dare ancora il suo verdetto, sicuramente però c'è un maggiore focus su Ida Platano che riesce ancora a ottenere alti numeri di share. E in ipotesi rimane anche Cristina, piaciuta parecchio al pubblico durante tutto l'anno. Sarà che nessuno crede più alla ricerca dell'amore vero di Gemma? Sarà che sia diventata ripetitiva. Con ogni probabilità rimarrà ai margini del progetto. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.